E dove andrebbe? Adesso vi faccio vedere la notizia che abbiamo messo anche sul nostro sito tggialloblu.it, Balotelli avrebbe ricevuto un'altrettanto importante offerta dal Flamengo, Flamengo squadra brasiliana, titolarissima, tra l'altro ha fatto una grande campagna acquisti ultimamente, ha ripreso per esempio Gabigold che sta facendo sfracelli e dunque il Flamengo vorrebbe di nuovo Balotelli, vorrebbe Balotelli anzi per la prima volta, in modo da creare una sorta di antagonista a quel colpo che ha creato il Boca e Juniors, che è squadra argentina prendendo De Rossi. Pare che Balotelli sia molto compiaciuto da questa offerta e insomma ci sia una trattativa in atto che potrebbe portarlo a punto in Brasile, in quel caso da Verona si allontanerebbe Balotelli e quindi pensate se in questo momento dovessimo rifare quella domanda che abbiamo sentito fare a collega a Ivan Iurice, cioè se al Verona sarebbe sufficiente Tutino, Lazzovic e Balotelli per salvarsi, togliamo Balotelli, immaginate voi che cosa direbbe in questo momento Ivan Iurice. È tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata.